Partita la call per la terza fase del progetto, mai troppo tardi, rivolta a giovani tra i 18 e i 29 anni residenti a Novara o provincia. Una call finalizzata ad individuare figure a cui trasmettere le competenze necessarie per passare da un'idea ad un progetto d'impresa, in un percorso di prototipazione di una start-up, ma anche soltanto per espandere le proprie conoscenze. Il percorso formativo completamente gratuito. Abbonati a soli 9,90€ all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.